La strettoia in via Bonini è il primo intervento che ci hanno accordato dopo la petizione che abbiamo depositato due anni fa. Si tratta chiaramente di una strettoia volta a rallentare il traffico. Un intervento che hanno chiesto i residenti. Chiaramente tutto è sperimentale. Cerchiamo di dare ascolto a quelle che sono le esigenze di questo quartiere veramente dimenticato. Speriamo che venga ben accolto. Ricordo chiaramente che è in via del tutto sperimentale. Per cui chiedo anche un po' di pazienza perché questa cosa vorrà un po' di tempo per essere aggiustata. Chiaramente questo è solamente il primo intervento. Ricordo che c'è da sistemare il ponte di via del Rio. Fatiscente, pericoloso. Ricordo la rotatoria. Lì abbiamo alcune cose ancora da sistemare. Sono faccende burocratiche che speriamo di poter risolvere. Ricordo lo stabilizzato del parcheggio in via del Rio. Ricordo il potenziamento della segnalettica importante, l'illuminazione. E poi volevo chiedere se, ancora un'altra piccola cosa, i nostri amici a quattro zampe sono importanti. E noi vorremmo un posticino anche per loro. Qui i cani purtroppo non hanno modo di passeggiare come vorrebbero. Quindi direi mettiamoci una zampetta sulla coscienza. Grazie tesoro. E pensiamo anche a loro. Di verde ce n'è tanto. Questo è un quartiere sfortunato ma altrettanto fortunato perché ha tanto verde intorno. È un piccolo spazio per loro. Penso lo si possa dedicare. Grazie. 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 Grazie a tutti